Tra poco Sul canale 17 di Fano TV, l'informazione locale Si è costituito in Abruzzo il pirata della strada che ha travolto ucciso a Pesaro una donna di 59 anni I carabinieri di Fano salvano la vita a un cinquantenne che ha tentato il suicidio Sono stabili le condizioni della ragazzina che ha rischiato di affogare in una piscina condominiale a Marotta Buonasera e benvenuti a Occhio alla Notizia Apriamo questa edizione del lunedì con un'ampia pagina dedicata alla cronaca Partiamo con il pirata della strada che ha travolto e ucciso ieri mattina Patrizia Del Bene a Pesaro L'uomo, un 37enne peruviano ma residente a Monbaroccio, si è costituito ieri sera in Abruzzo Giusto in tempo per evitare l'arresto Sentiamo i particolari nel servizio di Simona Zonghetti Si è costituito nella tarda serata di ieri a Monte Silvano in Abruzzo Il conducente della BMW Coupé Verde Scura Che ieri all'alba ha travolto e ucciso la 59enne Patrizia Del Bene Il responsabile è un 37enne peruviano residente a Monbaroccio Rigolarmente in Italia La macchina con la carrozzeria rovinata, parcheggiata proprio a Monbaroccio Era stata notata da alcune persone che avevano avvertito la polizia municipale di Pesaro Di lì a poco si è risaliti al proprietario che nel frattempo era arrivato nella vicina regione L'essersi costituito entro le 24 ore dal tragico incidente Gli ha fatto evitare l'arresto E' stato denunciato a piedi libero per omissione di soccorso e omicidio colposo La vittima, che lascia il marito e una figlia, abitava in via Marsiglia Nella zona delle Cinque Torri E ieri alle 5.30 in sella la bici elettrica Stava andando a lavorare in un albergo della zona mare Quando, mentre percorreva Viale Gorizia, si è trovata di fronte la BMW Che ha perso il controllo e le ha invaso la corsia L'urto frontale ha scaraventato la donna sul marciapiede opposto Dove iniziano le strisce pedonali, facendola volare per una ventina di metri L'investitore non si è fermato ed è scappato via Quando sono giunti i sanitari del 118 Il suo cuore aveva già cessato di battere Probabilmente il peruviano era ubriaco sotto l'effetto di sostanze stupefacenti Visto che prima di centrare in pieno la signora Ha urtato due alberi che delimitano la carreggiata Ma sul caso indaga la polizia stradale di Pesaro I residenti invece si sfogano Raccontando che questa è la strada principale per uscire dalla zona porto E spesso, raccontano, passano persone ubriache Che tornano a casa dopo aver passato la notte nei vari locali del lungomare Via Gorizia, così come anche Via Le Napoli Sono spesso teatro di incidenti Specialmente in estate Ma sono state inutili fino ad oggi Le loro richieste di una maggiore sicurezza Riducendo almeno la velocità degli automobilisti E c'è una delusione d'amore Alla base del suicidio di un giovane di 25 anni Ieri mattina a Pesaro Buttandosi sotto un treno Vediamo Giacomo Venturini, un ragazzo 25enne di Candelara Ha deciso di farla finita Ieri all'alba Gettandosi sotto un treno merce Che transitava sulla linea cattolica Pesaro Venturini, che faceva il meccanico Nell'officina Ami di Urbino Dove era stato assunto da poco Pare che non avesse mai superato Una forte delusione d'amore Dopo aver passato la notte fuori Probabilmente in compagnia di amici Intorno alle 5 si è recato in zona con la sua auto Si è avvicinato ai binari Scavalcando la recensione Prima del tragico gesto Ha inviato un messaggio di saluto e di affetto Al fratello minore Che stava già dormendo Frasi che lasciavano pochi dubbi Sulla sua volontà Il macchinista non ha fatto in tempo a fermarsi Prima dell'impatto E per Giacomo non c'è stato scampo Avvistato il cadavere All'altezza di via Bologna Poco prima della stazione di Pesaro Un macchinista ha lanciato l'allarme al 118 Il fatto è alla polizia ferroviaria Che ha provveduto ad isolare l'area A bloccare il traffico ferroviario Ed avvertire il magistrato di turno I suoi familiari hanno appreso la tragica notizia Solo diverse ore dopo il ritrovamento del corpo Disagio anche per la circolazione dei treni Che hanno accumulato fino a 100 minuti di ritardo In questo caso invece i carabinieri Sono arrivati in tempo E hanno salvato la vita A un cinquantenne del posto Avvistato l'altra notte Poco prima delle tre Mentre era intento a sigillare Con del nastro adesivo Il finestrino posteriore destro Dal quale aveva introdotto Nell'abitacolo un tubo in gomma Che aveva a sua volta Collegato con la marmita dell'autovettura L'uomo che ha tentato il suicidio A causa di alcuni problemi Con la sua attività lavorativa E' stato trasportato all'ospedale Santa Croce Per gli accertamenti medici del caso Dopo le cure e una consulenza psichiatrica Il cinquantenne è ritornato a casa sua E' ancora in prognosi riservata La ragazzina che ieri ha rischiato di affogare In una piscina comondominiale a Marotta Vediamo cos'è successo E' stata ricoverata ieri in gravi condizioni Nel reparto di rianimazione del Santa Croce di Fano La tredicenne ritrovate esanime Nella piscina del condominio Cesano Mare La ragazzina di nazionalità senegalese Era stata affidata dai genitori e agli zii Che abitano in uno dei 69 appartamenti Di questo edificio In via Litorania a Marotta Lo zio dopo aver pregato in occasione del Ramadan Non vedendo più la nipote Si è affacciato fuori verso la piscina E lei era lì ma immobile e affaccia all'ingiù Allertato al 118 Dopo i primi soccorsi è stata trasportata Dall'ambulanza all'ospedale Fanese Erano circa le 18 Quando è stata ricoverata con diagnosi di sindrome d'annegamento Infatti pare che dopo un tuffo nell'acqua alta Il suo corpo esile non l'abbia aiutata Nel risalire a galla e a raggiungere il bordo della piscina A fare il punto delle sue condizioni cliniche È stato Augusto Sanchioni Direttore facente funzioni dell'unità di anestesia e regnimazione La tredicenne oggi era sedata Intubata e in ventilazione controllata I parametri emodinamici sono stabili La diuresi si mantiene valida Ma la prognosi rimane riservata Ad eseguire gli accertamenti e a fare un sopralluogo Sono stati i carabinieri della stazione di Marotta Che hanno compilato una relazione sia per la procura ordinaria Che per la procura dei minori Ed è finito rovinosamente a terra Questa mattina intorno alle 9.30 Un centauro di 63 anni Che percorreva via Roma in direzione mare Per evitare lo schianto con una Nissan Micra Guidata da un anziano Che ha eseguito una inversione a U Senza accorgersi della moto Che stava sopraggiungendo alle sue spalle Il 63enne ha perso il controllo della moto Nella brusca frenata per schivare l'auto Ed è caduto Procurandosi fortunatamente solo rievi ferite Sul posto, oltre ai vigili urbani di Fano Per i rilievi di rito Anche i sanitari del 118 Che hanno trasportato il ferito in ospedale Per accertamenti Ed ora apriamo la pagina della politica Perché la minoranza critica la maggioranza Sull'approvazione del bilancio preventivo Del comune di Fano Sentiamo Per la minoranza fanese È un bilancio preventivo deludente Quello approvato venerdì scorso in consiglio comunale Con il solo voto della maggioranza Sono stati respinti Precisano i consiglieri Tutti i 1067 emendamenti Presentati dall'opposizione Lamentano inoltre un prelievo eccessivo Delle Aset Oltre 400 mila euro in più Dalle sanzioni stradali Una pressione tributaria troppo alta E poca attenzione ai risparmi Meno al sociale Ai servizi educativi Dicono E più al settore della cultura Perché secondo loro Il vice sindaco Stefano Marchegiani È il sindaco Ombra Da una nuova amministrazione Ci si aspetta una progettualità E delle novità Ha sottolineato l'ex sindaco Aguzzi È vero Aggiunto che la giunta serie Lo scorso anno Ne ha approvato uno In parte ereditato Dalla giunta precedente Ma per quest'anno Avevano promesso Un bilancio innovativo E invece ha prodotto Soltanto operazioni Di assestamento Dei tagli subiti Abbiamo visto Un sindaco Molto impacciato Che ha cominciato A parlare Dei tagli subiti dal governo E tagli subiti dalla regione E dal fatto Che ha dovuto cercare i soldi Là dove si potevano trovare Ma non ha messo nulla In campo Tant'è che non si capisce Che progetto hanno Sul turismo Non si capisce Che progetto hanno Sulla piccola impresa Sul rilancio dell'economia Sul commercio Non c'è una parola Su questo Se non il fatto Che la tassazione Che l'anno scorso Hanno aumentato al massimo Quest'anno rimane al massimo Che per i servizi sociali Per la prima volta C'è un forte taglio Per la pubblica istruzione Per la prima volta In questi anni C'è un forte taglio Non c'è nulla Sugli investimenti Se non tappare qualche buca Stanno facendo in queste ore Le asfaltature Che sono quelle Che avevamo iniziato L'anno scorso E loro avevano sospeso Finite queste Non ce ne saranno altre Durante l'anno E nei prossimi mesi E dov'è che trovano i soldi E hanno trovato i soldi Per diciamo Ripianare quei tagli Che il governo Renzi Ha attuato Spremendo al massimo Le aziende partecipate Asset Holding Asset S.p.a. Che di per sé È giusto che facciano utili Ma non possono farne utili spropositati Perché è una tassazione occulta Cioè se l'aset Fa troppi utili Vuol dire che Fa pagare tariffe troppe alte Conseguentemente È una tassazione indiretta Anche noi A proseguito Guzzi Abbiamo prelevato soldi Dalle aset Agni addietro Ma qualche centinaia Di migliaia di euro Loro invece Si sono presi Due milioni e due Addirittura Li portano via Il fondo di accantonamento Il fondo di riserva Cioè sinceramente Siamo un po' Diciamo A una sproporzione Di atti Rispetto a quelle Che sono le situazioni Poi impegnano Tutti gli oneri Di urbanizzazione Diciamo Non per gli investimenti Ma per la spesa corrente E aumentano Le multe Da 850 mila euro Che erano un anno fa A un milione 300 mila euro Infatti si vedono I vigili Che sono scatenati In questi giorni A fare le multe a tutti Ecco Mi pare che sia Un bilancio Di una giunta Che all'inizio Del suo cammino Sembra una giunta Che è lì Che sta gestendo Gli ultimi mesi Della sua amministrazione Il consigliere regionale Di area popolare Mirko Carloni È deciso A dare battaglia Alla recente decisione Da parte del consorzio Di bonifica delle marche Di mettere una tassa Dopo 14 anni Dalla sua scomparsa Diretta agli operatori Del settore agricolo E dell'artigianato La tassa Che ha lo scopo Di mantenere Il reticolo idraulico E mitigare il territorio Su un piano idrogeologico Secondo Carloni Peserà gravemente Sull'economia E su un settore Che invece Deve costituire Una leva Per il rilancio economico Per questo motivo Il consigliere Ha depositato Un'interrogazione Urgente Affinché Venga fatta Chiarezza Sull'argomento E adesso Diamo uno sguardo A quello che è accaduto Alla notte rosa Una notte rosa Andata Sicuramente bene Ma con qualche miglioramento Da fare Vediamo che cosa è successo Notte rosa a Fano Buona la prima Possiamo sicuramente dire Una serata riuscita bene Trascorsa senza incidenti di sorta E in sicurezza Grazie alla sorveglianza Delle forze dell'ordine E il divieto Di utilizzare bottiglie E bicchieri di vetro Ha dato sicuramente Una mano Così come Il parcheggio Dell'ex caserma Aperto non stop Da registrare anche Nessuna emergenza sanitaria Per eccessi di alcol Cosa non da poco Si è voluto unire Le forze Creando un evento Straordinario Che era già partito Nell'Emilia Romagna E con questa parte Di costa delle Marche Che va da Gabice Fino a Senigallia Diventa un altro Valore aggiunto E soprattutto Possiamo parlare A livello internazionale E nazionale Perché questo ha avuto Un lancio Straordinario Sui mass media Quindi è diventato Ovviamente È un'occasione Per far conoscere Anche la nostra città Una serata Trascorsa tra Momenti comici All'Anfiteatro Rastad Con il San Costanzo Show E le note Dell'Orchestra Sinfonica Rossini Che ha inaugurato La Corte Sant'Arcangelo In piazza 20 Settembre I rinoceronti Hanno animato Con le loro note Un centro storico Poco coinvolto Da questa prima notte rosa Con negozi Spenti e Saracineschi giù Con il pensiero Più alla notte dei saldi Gran finale A mezzanotte Con lo spettacolo Pirotecnico E l'animazione Del Lido La partecipazione È stata tanta Anche dagli esergenti Che ringrazio tutti Perché sono dimostrati Molto disponibili E hanno attivato Le belle cose Quindi c'è voglia Di passare del buon tempo Mi pare che sia tutto in ordine Che non ci siano fenomeni strani E quindi Una bella serata Bene con quest'ultima notizia Si chiude qui Questa edizione Di Occhio alla notizia Che tornerà naturalmente Domani sera Se vorrete qui Puntuale Alle 20 e 30 Domani mattina invece Occhio ai giornali Alle 7 e 30 Buon proseguimento di serata E arrivederci a domani A presto